Ciao, mi chiamo Enrico. Allora, mi trovavo a analizzare, a fare un ragionamento e volevo condividerlo. Ed è un po' che studio molti anni, che studio un po' l'andamento, no? L'andamento della società, le persone, mi piace guardare persone, mi piace guardare statistiche, leggere, capire. La cosa che ho visto, che è molto semplice, la vediamo tutti, è che le persone si dividono in due categorie. Quindi, la categoria numero uno, che è quella di tutte quelle persone che hanno creduto alla grande balla sociale. E, ahimè, questa categoria è molto ampia, non vi dico la statistica perché fa paura. La grande balla sociale in che tipo? Cos'è la grande balla sociale? La grande balla sociale, e penso se sei d'accordo con me, è tutto quello che abbiamo imparato nel nostro percorso di vita. Dalla nascita, dall'educazione che ci hanno dato i genitori, e loro sono inconsapevoli, nel senso, non hanno nessuna colpa di tutto questo, perché anche loro, a sua volta, sono nella stessa situazione. Sono stati nella stessa situazione, anche loro hanno avuto gli stessi insegnamenti. Poi andiamo a scuola, a scuola ci danno quella educazione, quella direzione per fare la strada giusta per il nostro successo, il nostro futuro, la nostra vita, la nostra famiglia. Poi arriviamo a avere l'età adulta, dove cominciamo a prendere decisioni, chi ha 14 perché ha fatto un piccolo percorso di scuola, chi ha 18, chi ha 20, chi ha 24, in base a quanto hai deciso di studiare. Dovresti prendere due decisioni, decidere cosa fare, che tipo di lavoro, hai delle idee, hai dei sogni, ti sei fatto un'idea di cosa potresti, non potresti fare, però ahimè, ti guardi lì fuori e generalmente cosa succede? Il primo lavoro utile che trovi lo prendi, perché? Perché comunque a fine mese non vai a prendere da mangiare o a pagare le bollette con l'educazione, con la formazione, con tutto quello che hai imparato nella vita, no, ci vai con i soldi. L'unica cosa che serve per vivere principalmente sono i soldi. Ci hanno insegnato che possiamo vivere con poco, con poco, che dobbiamo lavorare, che dobbiamo darci molto da fare, pagare, 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 vivere quei 15-20 giorni estivi di vacanza per ricaricare le pile, chi è fortunato fa magari anche la settimana natale, pochissimi questi, e poi ti guardi indietro e dici, ma scusa, ma tutta la vita che lavoro, corro, studio, faccio quello che mi dicono, ti guardi bene attorno, cos'ho? Cos'ho? Ho la libertà. sono nato per essere libero o sono nato per essere schiavo? Questa è solo una tua scelta, una tua risposta. Poi c'è l'altro tipo di persone. Cioè, ci sono tutte quelle persone, il percentuale è molto piccolo, ma c'è. Che pensa? Ma tutto questo a me non piace, per me questa è una balla, non è vero che tutto questo che mi hanno raccontato è giusto, perché quello che ho non è quello che voglio. Quindi sono disposto a darmi da fare, trovare la strada, per ottenere quello che voglio, per avere la vita che voglio. Non credere a questa grande balla, che ti garantisco è una grande balla. Ma questo tipo di persone, sono quelle persone che anche quando ci sono il weekend, quando ci sono i ponti, quando si può fare due o tre giorni in più di vacanza, non la fanno e si danno da fare, vanno in cerca di opportunità, vanno a dare opportunità ad altri, dal momento che le trovano. Quindi condividono, condividono con quella piccola percentuale di persone che vogliono farcele, non credono alla grande balla, e si danno una mano, si cercano coesioni, si cercano partnership, si cerca di persone che ne sanno già, e che già capiscono come fare, e ci si attacca, ci si attacca proprio i pantaloni dalla giacca, si attacca e bisogna seguirli. Quindi questo alla fine è un appello, se tu fai parte di questo tipo di persone, non puoi non mettere, non schiacciare di seguito a questo video, ti scopri di più, ti si aprirà una pagina, che ho scritto appositamente per te, dove ti faranno un po' riflettere, dove vedrai un po' di opportunità, vedrai un po' di futuro, e lascerai la tua mail in fondo, e ti arriveranno altre notizie, altre cose che ti possono essere utili, e dentro ci sarà confezionato quello che ti potrà servire per poter lavorare il tuo futuro. Questa è un'opportunità, l'opportunità io la vedo come un regalo, ti danno un regalo, tu lo guardi, guardi la scatola, non sai cosa c'è dentro, e se non lo apri, non saprai mai se c'è una cosa che ti piace, o fa per te, o ti interessa. Quindi l'opportunità è un regalo, ne avrai avuti tanti nella vita di questi regali, di queste opportunità, bisogna solo vedere se li hai aperti, o se li hai lasciati chiusi. Io ti auguro di aprire questo regalo, e di trovarci più avanti, dentro a Capitale Digitale. Per oggi è tutto, io ti lascio, vi lascio con questa riflessione, decidi che tipo sei. Ciao, buona giornata.